Ben ritrovati a una nuova puntata di Quattro Chiacchiere Con. Oggi parleremo del nuovo polo scolastico di Ponte Canavese e ne parleremo con il sindaco Paolo Coppo, qui con noi, per illustrarci il progetto. Grazie. Benvenuto. Sindaco Coppo, allora il nuovo polo scolastico, nuovo però il progetto, l'idea è già precedente perché comunque era già nel programma elettorale della vostra amministrazione. Sì, è un progetto di cui se ne parla da anni, era stato frutto di un concorso di idee al quale avevano partecipato una cinquantina di professionisti, dopodiché uno l'ha vinto, a questo professionista, un certo architetto Farinelli di Ferrara, gli è stato affidato l'incarico di progettazione e successivamente siamo partiti con gli appalti che sono stati fatti dalla centrale di committenza regionale. Giustamente un progetto che è già partito prima, era stato fortemente voluto e sostenuto dall'allora assessore e vice sindaco Silvana Ferrero. Lei la scuola l'aveva vissuta come insegnante e come amministratore, quindi dopo attente valutazioni si era divenuti alla soluzione di dover rifare questa scuola. È una scuola che non è mai andata bene, non è poi così attempata degli anni 70-80, però è una scuola che ha sempre presentato delle criticità per la scuola. È un edificio che può andare bene per far altro. Progettualmente non è mai andato bene. Ora che i lavori sono iniziati, ci sembrava doveroso dare delle motivazioni, delle spiegazioni su ciò che si sta facendo e soprattutto dei numeri sui costi-benefici, perché i numeri sono quelli che al di là delle opinioni personali, per giuste che siano, i numeri sono quelli che sono opinabili, non sono opinabili. Anche perché è stato fatto comunque uno studio, una valutazione. È già stato fatto uno studio preliminare dove appunto erano emerse determinate cifre. Adesso queste cifre sono state ulteriormente rifatte e confrontate con i capitolati d'appalto della nuova scuola. I conti tornano, quindi queste spese insostenibili per questa gestione. Anche considerando che il numero di bambini possa ridurre, può essere vero, ma è un motivo in più. Perché stiamo parlando di una scuola di 2.800 metri per 100 bambini, attualmente ci sono 100 bambini. Ci sono degli spazi che sono inutilizzabili e non possono essere fruttati. Quindi facendo un raffronto, parliamo di numeri, partiamo dai numeri. Parliamo di numeri. Allora, intanto logisticamente, dopo che è stata fatta una prima presentazione, sono emerse delle osservazioni fatte da dei cittadini e dalle insegnanti. Sono state prese in considerazione quelle di alcune insegnanti, perché ritenute oggettive, che illustravano delle criticità che non si erano tenute in conto. In particolare, si pensava che la scuola nuova, non era scritto, perché il Polo comprende la scuola media e la scuola elementare, però era quasi sottointeso che la scuola nuova era riferita alla elementare. Non era stata prevista una cucina, perché si pensava di mantenere l'attuale, perché è una cucina che è sempre andata bene. Come prima si cucinavano i pranzi per la media e poi si portavano, adesso si sono sempre portati per elementare, così come si portano anche per l'asilo. Inoltre, il refettorio era stato considerato di sfruttare quello della media, perché gli attuali ragazzi delle medie non usufruiscono più della mensa. E quindi si pensava di sfruttare quello, per una questione di risparmi economici. Ci è stato fatto notare che, in particolare, il refettorio nel piano seminterrato delle medie avrebbe creato disturbo a chi faceva le lezioni nel piano superiore. Effettivamente è stato rilevato che le motivazioni erano sensate e quindi abbiamo rivisitato il progetto dell'intero Polo. Così che la scuola nuova, quindi, verrà destinata alle medie, ha tutti gli spazi per accogliere due sezioni di medie e la vecchia, per modo di dire, scuola media ospiterà le elementari. Due sezioni, più le aule per laboratori, la segreteria può restare sia in un edificio che l'altro, sarà a discrezione degli insegnanti o di chi ne usufruisce. Cominciamo a parlare di numeri. Sì, è stato fatto appunto un raffronto tra un'ipotesi di ristrutturazione della scuola. La scuola vecchia l'abbiamo appunto rigirata come un calzino, ma i costi di ristrutturazione sarebbero decisamente insostenibili. Dicevo prima, sono 2.800 metri dalla stima fatta già l'altra volta per una ristrutturazione, un conto fondato fuono di 500 euro a metro quadro. Quindi un conto di 500 euro a metro quadro per 2.800 sono 1.400.000.000. Meno di tre piani potresti per tutta la sezione elementare potresti almeno usufruire solo di due piani, perché altrimenti le aule non sarebbero sufficienti. Quindi il costo stimato è di 500 euro al metro e considerando che comunque non si sarebbe mai potuto realizzare un edificio a costo quasi zero, l'NZEB, ma si sarebbe solo stata una limitazione dei costi, ma non un abbattimento completo. Appunto dall'ulteriore verifica che è stata fatta e paragonata con il capitolato della nuova scuola, Sono alcuni esempi che sono già, la dicono già a lunga. Per esempio, per quanto riguarda le finestre, ci sono 445 metri di finestre. Un costo della demolizione, la posa e il rifacimento sono 500 euro al metro. Quindi un costo di 220.000 euro per le finestre. Per quanto riguarda l'impianto termico-sanitario, sono 2.800 metri. Per un costo di 220 euro al metro quadro, sono 620.000 euro. L'impianto elettrico, 100.000 euro. Il cappotto esterno, quindi tra pareti, soffitti, eccetera, sono 2.750 metri. Per 70 euro al metro, sono 192 metri. Perché il cappotto esterno comprende una media dei muri, un'altezza di 10 metri per un periodo di 140 e quindi saltano fuori 1.400 metri. Di cui, appunto, 450 in serramenti e 950 in cemento armato. Quelle del cemento armato portano a 192.000 euro. Appunto, come dicevo, pur facendo questa spesa, che si arriva già a oltre il milione, più IVA, più spese di progettazione, si arriva allo stesso costo di quella nuova. che attualmente, con il ribasso d'asta, è di 1.230.000. Può darsi che ci sia qualche spesa in più da fare. Però il nostro budget era di 1.500.000, ma noi contiamo di non arrivarci. Dicevo appunto che, pur facendo queste spese, non ci sarebbe nessuna possibilità di portare edificio a Nezep, non ci sono possibilità di mettere pannelli solari e quindi comunque nessun contributo da parte del GSE. Quindi solo una riduzione dei costi. Spieghiamo per chi non lo sapesse che cosa significa edificio a Nezep. L'edificio a Nezep sono edifici ad energia quasi zero, dove il Ministero comunque riconosce dei contributi, degli incentivi per chi fa questi edifici. Gli edifici nuovi, di nuova realizzazione, sono per legge da costruire in questo modo. Quindi hanno determinati requisiti, il cappotto, le luci, i pannelli solari, hanno determinati requisiti appunto. Si pensi che questo edificio avrà un costo di luce e riscaldamento di 5.000 euro. Quella attuale ne ha 35.000. Quindi solo di luce e riscaldamento sono 30.000 euro di risparmio. Questi appunto sono numeri sui quali non si può discutere. Per quanto riguarda invece la ristrutturazione della scuola media, quindi è stata presa in considerazione anche questa nell'ottica del polo completo, quindi l'attuale scuola media che ospiterà le elementari, ha avuto un progetto di ristrutturazione per 300.000 euro. Quindi con il ribasso d'asta si conta che possa arrivare più o meno a 250.000 euro. Con questo intervento è stato richiesto un finanziamento regionale, siamo in attesa di riscontro. In ogni caso considera una valutazione sismica, che ora non era prevista, neanche necessaria perché siamo in zona 4, ma noi l'abbiamo fatta per una maggior sicurezza e comunque per poter accedere a un contributo. Il rifacimento dei bagni, questa è una scuola fatta negli anni 70, quindi i bagni sono fatti centri, ma così come nell'altra anche. Il rifacimento dei serramenti nel lato sud, nel lato nord, erano già stati fatti in precedenza. La sistemazione di alcune aule che ora sono in disuso, quindi per i laboratori. Il rifacimento della pavimentazione, tutta o in parte. E poi una nuova cucina, che appunto potrà essere utilizzata per i pasti freschi, così come ora. E in questo modo riusciamo a liberare completamente l'edificio, il vecchio edificio. L'accesso, l'accesso al polo, sarà assolutamente in sicurezza, cosa che attualmente non è, o comunque è disagiato adesso, perché potrà avvenire per chi arriva a piedi attraverso la via Roma, quindi anche lì stiamo facendo, rientra nel progetto, stiamo facendo un marciapiede che dalla piazza Europa arriva fino alla scuola e fino al ponte, si attraversa la passerella pedonale, entra nella ex conceria e continua fino alla stazione. Tutto in assoluta sicurezza, cosa che adesso non c'è. Sempre perché arriva a piedi, invece dal piazzale con le macchine, ci sarà un accesso sul retro, dove prima c'è il parco giochi, anche questo in assoluta sicurezza. Per chi arrivi in auto, invece, si ferma sul parcheggio del salone polivalente e poi sale a piedi a dietro. Per le insegnanti e gli autobus, invece, si va da dietro dalla via Peramara, quindi anche loro possono entrare senza dover essere di intralcio o per chi arriva a piedi. L'aspetto economico, ecco questo è il punto un po' dove inizialmente chi aveva, tra virgolette, polemizzato, aveva puntato esclusivamente sull'aspetto economico, puntando il dito su un mutuo da un milione di euro che l'amministrazione avrebbe fatto, cosa che non è mai, mai avvenuta. Questo milione non è mai stato acceso e quindi diciamo che si era creato un po' uno spauracchio, anche giustamente, verso la cittadinanza, dove si vedeva poi obbligata a sottostare a un aumento di tassazione che in effetti non è mai avvenuto. Queste opere sono tutte completamente finanziate da risorse che potevano essere destinate solo alla scuola. Anche qui do dei numeri. Ci sono 500 mila euro di un primo avanzo di amministrazione di due anni fa che potevamo, che col patto di stabilità non potevamo utilizzare se non per edilizia scolastica. Un'ulteriore 500 mila euro derivano da transazioni tributarie vincolate anche all'edilizia scolastica, anzi alla redazione di questo polo. 50 mila euro sono i contributi di privati. Ecco, e qui devo obbligatoriamente e doverosamente ringraziare la... ...pulmino da 25 mila euro. Questo pulmino, al di là del beneficio economico, ci permette un risparmio economico di oltre 25 mila euro l'anno perché il servizio di scuolabus che prima era affidato al ditto esterno ora viene fatto improprio, quindi dal personale al comune. Quindi è un risparmio di ogni anno di 25 mila euro. 500 mila euro, abbiamo ancora mantenuto un prestito flessibile con cassa depositi prestiti, ma questo non è stato acceso e se si accenderà e di quanto sarà lo vedremo solo a fine lavori. Attualmente non è stato acceso. Abbiamo ottenuto la possibilità di poterlo fare. 350 mila euro invece sono... le abbiamo avuti dal GSE, quindi appunto facendo un edificio a energia quasi zero e questo l'abbiamo ottenuto grazie alla demolizione della coceria. Qui siamo andati a spulciare fra le pieghe della normativa, siamo stati direttamente a Roma al Ministero per valutare questa possibilità e l'abbiamo avuta quindi demolendo la coceria abbiamo demolito 6 mila metri cubi di fabbricato per farne mille quindi per la scuola e quindi da lì abbiamo avuto 354 mila euro di contributo. Quasi la metà sono già stati versati, gli altri saranno a fine lavori. I risparmi economici quindi luce e riscaldamento, luce e gas attualmente costano 35 mila euro con quella nuova 5 mila euro quindi c'è un risparmio di 30 mila euro. 13 mila euro derivano da rati di mutui precedenti già estinti da poco. 25 mila euro derivano dal risparmio sui servizi di scuola bus. 10 mila euro derivano dal risparmio sull'affitto della biblioteca. Attualmente noi affittiamo la biblioteca da una società operaia e invece avremo intenzione di portarne in un piano della vecchia scuola. Quindi lì abbiamo un risparmio di 10 mila euro. Per quanto riguarda le utenze, riscaldamento in particolare, avremo lo stesso costo perché attualmente abbiamo una spesa di circa 7 mila euro per riscaldamento. Andando dall'altra parte avremo comunque la stessa spesa o comunque molto meno. se come si pensa si cerca di mettere solo dei termoconvettori all'uso. Quindi anche lì avremo un risparmio ma quando anche ci fosse la stessa spesa viene compensata con quella di adesso. Il risparmio di 10 mila euro annui ci sono. Questa riteniamo che sia sana amministrazione perché quando vengono meno in un'amministrazione vengono meno le risorse o vengono ridotte è opportuno o ridurre le spese o aumentare le tasse. Quindi noi abbiamo scelto di ridurre le spese. Sì, ridurre le spese e oltretutto anche offrire un servizio migliore ai bambini e alle maestre. Sarà un polo dove avremo un asilo nido abbiamo la scuola media la scuola elementare abbiamo la palestra abbiamo il salone polivalente tutto in un'unica area. Quindi è senz'altro una comodità più di quanto lo sia adesso che c'è maggiore dispersione. senz'altro e soprattutto in assoluta sicurezza per quanto riguarda gli accessi. Sì, questo è importante. Avevo sentito invece qualcuno contrario alla costruzione di questo polo che aveva detto che non sarebbe stata una sicurezza per i bambini. Queste sono appunto le opinioni che possono essere legittime ma sono facilmente smontabili per i motivi che ho detto prima sia per l'accesso solo da adesso ultimamente le insegnanti ci hanno fatto una lettera dove ci fanno notare che per un accesso dove di fatto sarebbe vietato ma alcuni genitori ci passano comunque e solo due o tre settimane fa una macchina che passava ha toccato lo zannetto di un bambino è successo niente ma poteva essere comunque un guaio perché c'è un accesso molto è limitato l'accesso invece lì sarà tutt'altra cosa l'attuale edificio delle scuole alimentari anche lì si diceva che rimaneva una cattedrale nel deserto avevamo messo in conto anche questo per quanto riguarda il primo piano appunto l'abbiamo valutato di trasferire la biblioteca per i motivi che ho detto che ti porta anche lì un risparmio cioè avremo possibilità di fare la casa nostra molto più grande invece adesso è sacrificata che noi abbiamo 35.000 volumi in quella biblioteca una delle migliori del canavese e non ci sta più niente piena e neanche possibilità di aumentarla quindi solo da poco una signora mi ha offerto la la biblioteca una biblioteca un'enciclopedia medica di suo marito molto bella marito medico non abbiamo potuto prenderla perché non sappiamo dove metterla invece lì avremmo avuto la possibilità di metterla lì comunque si presta perché le c'è un piano di una scuola adesso la biblioteca di adesso sono circa 300 metri lì ce ne sono quasi mille quindi si possono fare laboratori didattici si può fare laboratori di lettura tutto quello che si vuole si presta tutto quello e si avanzano spazi certo e quindi questo per quanto riguarda il piano primo per il piano secondo invece ci siamo abbiamo partecipato e ci siamo aggiudicati un bando regionale un 8 ter per quanto riguarda la realizzazione di un centro disabili centro diurno per disabili minori la regione aveva già fatto questo in via sperimentale tra quattro anni fa ne aveva aperti cinque in tutta la regione ha visto che l'esperimento ha funzionato ha fatto un bando per altri cinque uno di questi cinque quello che riguarda tutta l'area torino nord ce la siamo aggiudicata noi appunto quindi per questo faremo a breve uscirà un bando pubblico dove noi daremo la possibilità di gestire questo centro diurno per disabili minori il piano terra invece l'abbiamo messo fra i beni alienabili quindi abbiamo possibilità è un piano dove è in centro il paese c'è possibilità di fare un parcheggio davanti e quindi l'abbiamo appena inserito nell'ultimo bilancio fra i beni alienabili del comune o tutto o in parte o frazionato quindi a breve anche faremo un bando per l'alienazione i tempi di realizzazione di tutto questo qui ovviamente confidiamo nella ditta che si è giudicata l'appalto questa è una ditta che ha partecipato ad un concorso a un bando pubblico sappiamo come funzionano i bambini pubblici che sono quasi una lotteria dove comunque il comune non ha nulla a che fare anche giustamente però questo è stato seguito dalla dalla committenza regionale e si è giudicato questa ditta noi confidiamo in questa così come era già andata per la torre era andata bene una ditta si era già giudicato i lavori in quest'altro modo e era andata bene noi confidiamo assolutamente in questa oltretutto porterà lavoro nella zona perché questa dovrà subappaltare e conta di affidare lavori a ditte locali quindi ci sarà per quanto riguarda invece il trasloco è ipotizzabile nell'anno scolastico 2020-2021 nell'estate di quest'anno contiamo in attesa di vedere se riusciamo aderire a questo bando regionale per la media contiamo già di iniziare con il rifacimento dei bagni alla scuola media in ogni caso se non dovessimo accedere a questo mutuo le risorse economiche per fare anche queste risorse ci sono noi attualmente abbiamo a disposizione con il mutuo flessibile un milione e nove a noi ce ne servono uno due trenta più due cinquanta un milione e cinque un milione e sei un milione e sette quindi anche il prestito flessibile noi non lo sfrutteremo tutto quindi le risorse ci sono e riteniamo sia non un buon ma un ottimo investimento per per il futuro sotto l'aspetto della sicurezza appunto sotto la vivibilità dei ragazzi e sotto l'aspetto economico che è una eredità che lasceremo alle amministrazioni a venire cosa di non poco conto certo e durante i lavori i bambini comunque resteranno nell'attuale struttura i bambini restano nella nuova struttura per quanto riguarda elementare ma c'è un di più che se si fosse quando anche si fosse preso in considerazione di ristrutturare l'attuale scuola era impossibile perché con i bambini dentro non potevi farlo e non potevi nemmeno ricollocarli e nemmeno fare i lavori nel periodo estivo perché i due mesi estivi non sono sufficienti a fare opere quindi non avresti potuto farli avresti dovuto ricollocarli da qualche altra parte ma non era così semplice qualcuno parlava della vecchia scuola elementare la vecchia scuola attualmente un piano è adibito alla sede dell'unione una metà di un altro piano è adibito alla sala consigliare ma questo edificio appunto per chi lo conosce non avrebbe mai potuto essere sfruttato per la scuola perché era un edificio con 12 aule al tempo 12 aule dove c'erano 5 classi maschili 5 classi femminili una segreteria e una direzione certo sì il problema è che 5 aule ma le classi erano da 40 ragazzi e sì invece adesso sono ridotte adesso sono a metà quindi aule ne servono il doppio il problema era quello quindi non avresti potuto in ogni caso sfruttarlo delle considerazioni sono sorte delle polemiche ma come questo per chi amministra fa parte del gioco però chi si assume l'onere e vogliamo anche l'onore di amministrare deve avere capacità decisionale nel portare avanti i programmi che ha inserito nel programma elettorale perché sono promesse fatte chi vuole chi vuole avere da ridire avrebbe da ridire se non l'hai se non hai ottemperato il programma elettorale quindi noi questo l'avamo detto di questo di questo nuovo polo se ne è parlato ampiamente ne hanno parlato i giornali ne hanno parlato i social io stesso ne ho dato comunicazione durante una una festa di fine anno dei ragazzi quindi proprio al salone polivalente ho detto che dall'anno prossimo sarebbe stato messo in cantiere la nuova scuola mai nessuno ha avuto niente da ridire adesso tutto in un colpo salta fuori questa oltretutto è una scuola dove tutti quelli che l'hanno frequentata hanno sempre avuto da ridire per le problematiche di queste scuole già le amministrazioni io parlo per i 15 anni che ci sono ma anche già le precedenti amministrazioni hanno speso palate di soldi dentro quella scuola e non vedi dove li metti lo stesso assessore dei lavori pubblici di prima quando abbiamo presentato il progetto in consiglio ha detto fate molto bene perché avremmo già dovuto rifarla noi a quest'ora ne avremmo già fatti due di scuole con quello che si è fatto quindi per questo abbiamo portato avanti il discorso queste polemiche principalmente sono sorte per due principali motivi una una mancanza di volontà di di andare ad attingere a fonti certe quindi in comune non dico dall'amministrazione ma dai dipendenti comunali sono quelli che sono la costante sono loro quindi mancanza di volontà di attingere a fonti certe e l'altra è stata una strumentalizzazione politica ma ripeto anche questa ci può stare il fatto è solo che in questo caso riguarda la scuola in generale quindi io l'avrei evitata perché è un danno di immagine che porta alla scuola e la scuola è un è un capitolo che per quanto mi riguarda non andrebbe toccato e scalfito sì sì perché comunque coinvolge bambini famiglie insegnanti cittadini comuni quindi cittadini comuni la scuola è un bene è un bene troppo importante per poterlo quindi che si crede il malcontento avevamo già vissuto una situazione del genere quando è stata fatta la piazza anche lì apri di cedo era già nel programma e l'abbiamo portata avanti ora sono tutti contenti per quanto riguarda la scuola sarà la stessa cosa perché quando saranno lì in edifici nuovi ma anche la stessa la stessa scuola media ma così com'è adesso non ha paragone con l'altra perché è una scuola esposta al sole ambienti luminosi quell'altra ci sono aule dove ci sono le luci accise tutto il giorno quindi sono non va bene quella scuola bisognava metterci mano bisognava che qualcuno che qualcuno lo facesse e noi l'abbiamo fatto qualche altro punto in programma ancora da realizzare che potrà creare malcontenti in futuro ma i malcontenti i malcontenti sono poi i malcontenti sono circoscritti a poche persone che oggi la tecnologia ci offre ci ha regalato i social nel bene e nel male possono condizionare che poche persone ti possono ti fanno un click ti scrivono due righe e ti fa il giro del mondo e l'abbiamo visto in tanti altri casi quindi tutto può destare a aver modo di creare polemica l'ho detto prima se non si fosse realizzato si poteva dire che non temperava il programma elettorale quindi quindi in un modo nell'altro diciamo che diciamo gli untori sono poi si racchiudono poi dentro una mano in 4 o 5 persone poi è chiaro che l'aico si espande ma questo è l'importante avere una coscienza a posto sapere di agire nell'interesse dell'ente e dei cittadini e questo io posso garantire che è l'unico scopo dell'amministrazione che è sempre stato ottemperato e che si sta ottemperando ringrazio il sindaco Paolo Coppo per essere stato con noi per questa bella chiacchierata e per aver illustrato il progetto del polo scolastico e a proposito sempre del polo scolastico avevamo in programma subito dopo una puntata con i consiglieri di opposizione che erano stati invitati giustamente per un contraddittorio purtroppo non siamo riusciti a confermare la puntata restiamo comunque a disposizione perché mi sembra giusto che i cittadini sentano tutte le voci che sono in parte grazie per essere rimasti con noi continuate a seguirci grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti